Il colonialismo italiano fu un periodo compreso tra il 1882 e il 1960, durante il quale il Regno d'Italia intraprese una serie di spedizioni con lo scopo di avviare, e successivamente espandere, un proprio dominio coloniale, soprattutto in territorio africano. Vediamo alcuni punti chiave di questo periodo storico, inizio dell'espansione coloniale. L'Italia iniziò la sua esperienza coloniale con l'espansione in Eritrea tra il 1882 e il 1890. L'Eritrea fu utilizzata come trampolino di lancio per il tentativo di conquista dell'Etiopia, che però si concluse con il disastro di Adua nel 1896. Somalia italiana, tra il 1889 e la prima decade del Novecento, l'Italia pose le basi per la penetrazione economica e amministrativa in Somalia. I confini della Somalia italiana vennero definiti nel 1908 con un accordo italo-etiopico. Cirenaica, Tripolitania e Isole Egee, oltre all'Eritrea e alla Somalia. L'Italia è stessa il suo dominio coloniale anche alla Cirenaica. Alla Tripolitania e alle Isole Egee punto conseguenze e dibattito pubblico. Il colonialismo italiano è una storia di violenze brutali, crimini contro l'umanità e razzismo. Questo periodo è stato a lungo dimenticato o nascosto dietro il mito degli italiani brava gente. In sintesi, il colonialismo italiano ha avuto un impatto significativo sulla storia dell'Italia e delle regioni coinvolte, lasciando un'eredità complessa e controversa. È un argomento che continua a suscitare dibattiti e riflessioni sulla memoria storica e le responsabilità del passato. Il colonialismo italiano ebbe diversi effetti su società, culture ed economie. Vediamo alcuni punti chiave. Sfruttamento delle risorse. I territori conquistati rappresentavano uno sbocco per le merci e fonti di risorse naturali e materie prime a prezzi vantaggiosi. L'Italia cercò di sfruttare economicamente questi territori, portando a una maggiore estrazione di risorse. Investimenti e crisi economica. Durante la fine del XIX secolo, l'Italia si trovava in una difficile crisi economica iniziata nel 1873. I possedimenti coloniali offrivano un luogo in cui investire capitali in eccesso e affrontare questa crisi. Le colonie rappresentavano anche un mercato per i prodotti italiani. Nuove idee, tecnologie e prodotti. Il contatto con le culture locali nei territori coloniali portò alla diffusione di nuove idee, tecnologie e prodotti. Questo scambio culturale influenzò l'economia italiana e contribuì alla crescita di settori come il commercio e l'industria, instabilità politica e conflitti interni. Il colonialismo italiano portò a tensioni politiche e conflitti interni. Ad esempio, la guerra d'Etiopia 1935-1936 fu un tentativo di espansione. coloniale che ebbe conseguenze economiche e politiche significative. In sintesi, il colonialismo italiano ebbe un impatto complesso sull'economia, con vantaggi e sfide. Tuttavia, è importante riconoscere che questo periodo storico è stato anche caratterizzato da violenze e sopraffazione dei colonizzatori. Gli storici hanno analizzato a fondo l'impero coloniale italiano, portando alla luce una realtà ben diversa da quella del mito degli italiani brava gente. Ecco alcuni punti chiave. Violente conquiste. L'impero italiano durò per circa 60 anni, durante i quali l'Italia esercitò un dominio spesso spietato su 12 milioni di persone. Le conquiste coloniali furono accompagnate da massacri, oppressione e razzismo. Mitizzazione apologetica. Nel passato, gli italiani venivano spesso descritti come un popolo di brava gente che aveva portato sviluppo e investimenti in Africa. Tuttavia, gli storici hanno dimostrato che il colonialismo italiano fu altrettanto brutale di quello delle altre potenze europee. Ambizioni di conquista. Il dominio coloniale contribuì a fornire al paese ambizioni di conquista che alla fine lo trascinarono nel disastro della Seconda Guerra Mondiale. Estensione dell'impero, all'apice della sua estensione, l'impero italiano occupava le odierne Albania, Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia, con una superficie totale di 4 milioni di chilometri quadrati. In sintesi, gli storici hanno smantellato il mito dell'impero coloniale italiano buono, evidenziando la sua vera natura e le conseguenze storiche. Il colonialismo italiano fu un periodo compreso tra il 1882 e il 1960, durante il quale l'Italia intraprese una serie di spedizioni con lo scopo di avviare e successivamente espandere un proprio dominio coloniale, soprattutto in territorio africano 1. Ecco alcuni dei personaggi e avvenimenti significativi legati al colonialismo italiano. Alessandro Pavolini, un gerarca fascista che scrisse il romanzo La Disperata, caratterizzato da un forte tono guerresco. Indro Montanelli, un giovane giornalista e scrittore italiano che scrisse opere come Ventesimo Battaglione Eritreo 1936, Guerra e pace in Africa orientale 1937 e Il racconto Ambesà 1938. Angelo Del Bocca, giornalista e divulgatore che ha contribuito a raccontare l'Africa e il colonialismo italiano attraverso un rigoroso percorso scientifico sulle fonti orali, scritte e materiali.altre figure famose. Italo Balbo, primo ministro in Libia e il colonnello Graziani.